Oggi la città riscopre il culto di San Biagio sin dal 1400, a Caltanissette era forte questa presenza. Sì, più che una riscoperta è un appuntamento annuale al quale la città fa fede e onora attraverso la preghiera, la partecipazione alla messa e soprattutto la visita nei luoghi in cui è presente San Biagio o attraverso la statua del Biancardi e mi riferisco a San Sebastiano o attraverso questo quadro di autore ignoto della parrocchia intitolata a lui e anche per la presenza di una reliquia che tramite Monsignor Alù, primo parroco, è pervenuta in questa chiesa che è un pezzo di osso, praticamente una reliquia costituita da un pezzo di osso di San Biagio. San Biagio è un vescovo armeno di Sebaste del IV secolo la cui vita è intessuta anche con leggenda oltre che storia perché poco si conosce, quel poco che si conosce però è documentato. Tutto il resto appartiene un po' a quello che la tradizione popolare gli ha attribuito come dimensione taumaturgica, quindi la guarigione di un bambino perché aveva ingerito una lisca di pesce, quindi San Biagio lo libera e così via. Però quello che conta di più sottolineare è come San Biagio si è entrato nella tradizione popolare, quindi oggi i nisseni più che riscoprire vanno all'annuale appuntamento con questo santo attraverso la preghiera, attraverso la visita e anche la benedizione della gola, oltre che ricevere le cosiddette guduregge che sono a forma di sciarpa che avvolge il collo e quindi è un simpolo per propiziarsi appunto il favore del santo. Dicevamo la benedizione della gola che è uno degli elementi di questa devozione un po' più propri. Sul fedele si appoggiano due cantele divaricate e incrociate e pronunziando, mentre si accosta per la benedizione, la seguente formula. Per i meriti e l'intercessione di San Biagio il Signore ti conceda la guarigione dal male della gola, del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore. Amen.